Dopo oltre un mese e mezzo di post-season si è chiusa la stagione NHL 2022 con la finale della Stanley Cup. Per la terza volta nella storia i Colorado Avalanche sono campioni dell'occhio su ghiaccio americano e canadese al termine di una grandiosa serie di finale contro i bicampioni uscenti dei Tampa Bay Lightning, ancora una volta arrivati in finale. Sul mio canale sarà peraltro un doppio appuntamento questo con lo sport americano durante questa settimana. Oggi parleremo della finale di Stanley Cup vinta da Colorado in sei partite. Sabato alle 19 invece ci sarà ancora una volta il ritorno del podcastone dell'MLB, il meraviglioso gioco del baseball con un ospite gradito che è Puma Z, altro canale che si dedica di MLB da un punto di vista più storico e del regolamento base. Faremo un'analisi clamorosa e approfondita di tutta la prima metà di stagione visto che oramai siamo arrivati allo star game del baseball americano. Qui invece nell'occhio su ghiaccio siamo arrivati in fondo e in apertura ha vinto Colorado 4-2. L'avevamo presentata come una serie di finale molto interessante perché di fatto si presentavano ai nastri di partenza della Stanley Cup Final le due migliori squadre per conference. Da una parte i Colorado Avalanche, la migliore squadra a ovest per distacco, un attacco spettacolare e una squadra che è stata costruita per arrivare fino in fondo contro i bicampioni uscenti di Tampa Bay. I Lightning erano il numero 3 nel tabellone per quanto riguarda la Eastern Conference ma avevano avuto un percorso veramente da squadra che è abituata a vincere e sa come ribaltare le situazioni più complicate. Di conseguenza erano due squadre che si potevano equivalere e infatti la serie è stata parecchio equilibrata nella maggioranza delle parti che si sono fatte per gara 2 e gara 3 di cui peraltro parleremo tra poco. Alla fine vince Colorado 4-2 ma comunque c'è tanto di cui discutere in questa serie playoff, una serie di finale che veramente relega ancora una volta Tampa Bay a una grande squadra ma stavolta perdente e che consacra Colorado come effettivamente un progetto riuscito. Il general manager della squadra di Denver Joe Sakic è riuscito in anni a costruire una squadra prima da playoff e adesso da titolo peraltro i Colorado Avalanche hanno vinto sì il trattito della storia su tre tentativi tra l'altro quindi qualcosa di veramente clamoroso. Il percentuale di realizzazione di vittoria della Stanley Cup per gli Avalanche è veramente qualcosa di irreale 100% per la formazione di Jared Bednar, Jared Bednar e i compagni che peraltro indirezzano subito la serie nel migliore dei modi una gara 1 che era già fondamentale. Qui andiamo direttamente all'approfondimento per ogni gara che abbiamo visto. Si gioca ovviamente col fattore campo per i Colorado Avalanche quindi col format 2-2-1-1-1 con quattro partiti su sette a Denver. Le prime due si giocano appunto alla Boll Arena e alla Boll Arena a gara 1 la vince Colorado per 4-3 al supplementare una gara 1 che appunto era fondamentale per questo motivo. Colorado nella serie di finale di conference ha strabattuto Edmonton per 4-0 mentre evidentemente Tampa era più fresca dal punto di vista delle parete giocate. Come intensità probabilmente l'hanno pagata perché Tampa Bay ha vinto sì ma ha vinto in sette partite o meglio in sei contro i New York Rangers. Va detto però dall'altra parte del Colorado era di fatto una settimana e passa di riposo e questo poteva assolutamente incidere. Ebbene muta fuori una gara molto interessante che appunto si risolve al supplementare dopo un 3 pari ai tempi regolamentari. Peraltro avremo già modo di capire chi saranno i grandi protagonisti. In particolare nelle prime due gare Valerini Ciuskin la russa sarà veramente il go-to-guy della formazione di Colorado a differenza di quelli che avevo indicato nell'ultimo video. Quindi i vari Rantanen, soprattutto McKinnon che si sveglierà leggermente più avanti è evidentemente ancora una volta la consacrazione della squadra di Colorado perché alla fine quelli che sono di fatto delle superstar ma magari in questa squadra passano un attimo in secondo piano sono coloro che hanno alla fine deciso le varie serie di finale, le varie partite in particolare. In particolare per esempio il gol dell'overtime che porta gara 1 a Denver è quello di Andrzej Burakovski, ex giocatore dei Washington Capitals e di Dallas Stars. Peraltro Burakovski ha già vinto il titolo proprio con i Capitals nel 2019 ed è stato un risolutore perché il gol decisivo viene fuori da un'azione in mischia dove il disco viene buttato fuori alla fine Burakovski di Slapshot. Di fatto buca Andrzej Vasilevski e alla fine arriva la vittoria importantissima per Colorado, una vittoria che darà di fatto l'inerzia per quello che vedremo in gara 2. Gara 2 e gara 3 diciamo all'inizio sono state gare che sono letteralmente state dominate. Gara 2 ancora una volta di scena la Bolarina ha appunto una sola squadra in pista ovvero il Colorado Avalos addirittura è 7-0. Per quanto riguarda gara 2 una ecatombe per i Lightning che avranno modo poi però di provare a rientrare in partita ma qui a maggior ragione si è visto come Colorado ha fatto gol in tutti i modi possibili e immaginabili. Di base quando Colorado andava in power play era praticamente gol fatto e il power play di Colorado ha avuto una percentuale di realizzazione praticamente al 50% che nell'occhi su ghiaccia è qualcosa di irreale. Per darvi l'idea se il power play di una squadra è sul 33% è qualcosa di clamoroso. Ecco nella sola serie di finale il Colorado Avalos c'era uno 6 su 13 prima di gara 6 qualcosa di incredibile. E un gol in power play si è visto quello appunto del Valerini Ciuskin di cui abbiamo detto poco fa. Peraltro Colorado si dimostra anche una volta una squadra completa perché c'era anche il gol di Keil Makar, un difensore goleador clamoroso, un giocatore che ha cambiato letteralmente la partita in short-handed. Quindi in situazione di 4 contro 5 quando di solito dovrebbe essere il power play avversario evidentemente a segnare e a portarsi sul tabellone. Certo in questo caso il gol del 6-0 però è indicativo di come questa squadra rodata e girata per il verso giusto ha evidentemente svoltato. E ovviamente parlo di Colorado Avalos. Peraltro Makar che è un difensore di mestiere farà anche doppietta con il settimo gol di tutti i playoff. Si ripete ancora una volta Burakowski, Ciuskin farà doppietta, segnerà addirittura Dare Helm che è un giocatore che non segna tantissimo. Ha segnato comunque un gol fondamentale in questi playoff ovvero quello che ha portato Colorado alla finale di conference contro Edmondo con un bel tiro all'angolo lontano al terzo periodo di gara 6 contro St. Louis a 4 dalla fine per evitare il supplementare. Veramente è la dimostrazione questa gara 2 di come Colorado è letteralmente una squadra. Mi ha stupito che Tampa Bay però perdesse le prime due partite perché è vero che è un copione che abbiamo già visto anche nelle altre serie però evidentemente mi aspettavo che per i motivi di qui sopra una gara almeno la vincessero. E a questo punto si doveva andare di fatto a Tampa Bay alla Amaliarine in una situazione di Colorado 2 Tampa Bay 0 nella serie. In una situazione molto clamorosa perché Colorado non aveva mai perso prima di gara 3 una partita in playoff in trasferta e c'è evidentemente la prima volta. Altra gara dominata questa volta però per Tampa Bay che di rimbalzo appunto dà una lezione in questo momento ai Colorado Avalanche dunque riportando la serie sul 2-1 6-2 il punteggio finale è una partita dove Colorado è vero che va ancora una volta in vantaggio e sarà il finalmente ritorno di Gaber Landerskog a dare un po' di speranza agli Avalanche per alto due gol in power play strano non succede mai ma alla fine è Tampa che alla fine ha la forza di rimontare già nel primo periodo con i gol di Anthony Cirelli e di Andre Palat che sarà uno dei pochi ad arrendersi evidentemente per la formazione di John Cooper alla fine Tampa dilaga nel secondo periodo con i gol di Nick Paul del capitano Steven Stamkos e anche di Pat Maroon peraltro gol molto particolare perché di rientro dalla panca dei puniti Maroon si ritrova solo davanti a Kemper e va a segnare il gol del 4-2 alla fine poi gli altri saranno gol che evidentemente metteranno le cifre ha rotate sul tabellone e c'è anche il gol in power play di Tampa quello di Cody Perry peraltro la differenza delle due formazioni delle vede dominate si è vista evidentemente in questo fattore è vero che Colorado pur perdendo ha segnato in power play ma questo aspetto nel fatto che in sua priorità numerica quindi in 5 contro 4 Colorado abbia avuto una personale realizzativa del 50% e di contro Tampa Bay nella stessa situazione non abbia praticamente mai segnato una detta veramente lunga sul fatto del perché questa gara si è finita appunto a favore dei Colorado Avalanche che di fatto dopo le prime due gare erano favoriti potevano addirittura chiuderla a Tampa Bay ma appunto perdono gara 3 6-2 e di contro rimbalzo quindi possiamo dire che si va a gara 4 ancora una volta però torniamo al copione di gara 1 da qui in poi saranno gare veramente bellissime veramente tirate ancora una volta overtime siamo in gara 4 ancora una volta pivotal game perché evidentemente un conto è andare a Denver sul 3-1 con la possibilità di Colorado di chiudere la serie e vincere il terzo titolo nella terza tentativa della storia un conto è andare per Tampa sul 2 pari giocarsi tutto di fatto in una serie best of 3 e alla fine vince Colorado con il gol di Nazem Kadri giocatore che era partito fuori dal roster di fatto per un grano infortunio che era dovuto fuori alla fine Kadri rientra e sarà fondamentale perché il gol decisivo lo porta lui a 12 minuti e 2 secondi dall'inizio del suo stesso supplementare il supplementare che ricordo nei playoff dell'occhi su ghiaccio è 5 contro 5 con un tempo di 20 minuti mentre il regular season è 3 contro 3 con un tempo da 5 minuti e poi eventualmente tiri di rigore e alla fine anche una volta una vittoria in rimonta perché Tampa Bay va per prima sul tabellone a 36 secondi addirittura dall'inizio della partita in un'azione anche abbastanza confuso dove il portiere Danse Kemper perde il caosco forse c'è penalizzazione su di lui non secondo gli arbitri alla fine è gol di Anthony Cirelli Tampa chiude in vantaggio il primo tempo Colorado reagisce e pareggia i conti inizialmente con il solito Nathan McKinnon che fa gol ovviamente in power play e si sveglia in realtà McKinnon perché fino a questo momento non era stato un fattore abbiamo visto gol di Lecunen, di Elm, di Burakovsky giocatori che è vero sono fortissimi ma in confronto appunto a Rantanen, a McKinnon, a Landeskog sono giocatori che sono letteralmente in secondo piano c'è il gol anche di Andrew Cogliano che pareggia i conti dopo il gol di Victor Edman grandioso difensore svedese dei Tampa Bay Lightning alla fine è il gol di Nassen Kadri in un'azione anche qui abbastanza di transizione dove alla fine lo slap shot del canadese batte Vasilevski che perde questa gara che consacra appunto Colorado sul 3-1 quindi gara 4 vinta per Colorado alla Amalia Arena si torna a Denver alla bollarina anche qui però partita stra equilibrata come era giusto che fosse tra due grandiose squadre Tampa Bay è ancora viva e dunque il fattore campo di fatto non esiste più vince Tampa 3-2 con il gol decisivo di evidentemente Andre Palat giocatore che segna un decisimo gol in questi playoff e porta la formazione di John Cooper ancora una volta a giocarsi tutto in casa dove evidentemente una vittoria di forza l'arrivata già in gara 3 in una partita che qui è stata veramente equilibrata è tornato a segnare Nikita Kucurov in power play Kucurov è uno dei giocatori più completi e più devastanti che ci sia sia dal punto di vista realizzativo sia soprattutto dal punto di vista degli assos per i compagni Kucurov gioca una gara 5 straordinaria e infatti è per questo motivo che Tampa ha la forza di reagire e vincere per 3-2 non bastano i gol del solito Valeriy Di Ciuskine e Kane Macar per Colorado per provare a chiuderla addirittura in 5 partite pronostico che era evidentemente clamoroso io ho pronosticato addirittura una finale in 6 partite finale in 6 partite che poi c'è stata e infatti tra poco andiamo a parlare di quella gara 6 gara 6 che sarà veramente equilibrata giocata alla Amalerina di Tampa Bay gara 6 che anche qui si dimostra equilibrata con uno scarto minimo tra le due squadre alla fine è 2-1 per Colorado gol decisivo di Arturi Leconen l'acquisto del mercato di riparazione potremmo chiamarlo così arrivato dai Montreal Canadiens che sono arrivati ultimissimi in Easter Conference Leconen è un giocatore di supporto alle superstar citate prima di Colorado e si è visto come ha fatto veramente la differenza Leconen ha segnato 3 gol in questi playoff e quello di fatto decisivo per arrivare alla Stanley Cup Final peraltro ancora una volta vittoria in rimonta fattore fondamentale in questa partita in questa serie in generale delle Stanley Cup perché ancora una volta Tampa Bay va sul tabellone per prima ed esplode la Malia Arena per il gol di Steven Stamkos il capitano però si sveglia McKinnon che da lì in poi di fatto non si ferma più e Arturi Leconen poi concluderà i conti per una grandiosa vittoria per il Colorado Avalanche ripeto ancora una volta è la terza Stanley Cup per la formazione di Denver la cosa incredibile che ci sono riusciti sempre quando sono arrivati in fondo a giocarsi il titolo gli altri due titoli che hanno vinto nella storia sono stati nel 1996 l'anno successivo al trasferimento della franchigia perché ricordiamo che i Colorado Avalanche sono stati trasferiti dai famosi Quebec Nordics appunto a Denver e nel 1996 vinsero il primo titolo il secondo lo vinsero nel 2002 e poi da lì un digiuno di 20 anni e di conseguenza 20 anni dopo con Joe Sekic che da giocatore passa a General Manager i Colorado Avalanche hanno vinto la Stanley Cup per la terza volta nella loro storia sono stati battuti i Tampa Bay Lightning per 4-2 al termine di una clamorosa serie di finale mi è piaciuto veramente un sacco vederla e spero che abbiate apprezzato anche voi qualora l'abbiate vista questo è appunto il riassunto della Stanley Cup sono stati tre video intensi per quanto riguarda l'Hockey su ghiaccio ringrazio chi mai guarderà questo video per appassionarsi anche a quest'altro sport americano che segue oltre il meraviglioso gioco del baseball ringrazio personalmente per quanto possa contare poco i commentatori di Sky Italia che hanno commentato divinamente le finali playoff in particolare Pietro Nicolodi Danilo Freri che li troveremo anche nel baseball americano e anche Bonino Molla che è stato veramente bravissimo e spero di ritrovarli l'anno prossimo a commentare il meraviglioso gioco del hockey oltre ovviamente il meraviglioso gioco del baseball che peraltro ricordo ancora una volta tornerà anche su questo canale sabato alle 19 con il primo podcastone della MLB Review con ospite il buon Puma Z appunto mi farà compagnia quindi mi raccomando rimedi sensorializzati questo appuntamento con l'Hockey su ghiaccio finisce qui per quest'anno ci rivedremo l'anno prossimo per parlare ancora una volta dei playoff 2023 il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti